Quest'anno noi laziali neanche il panettone mangiamo, perché il nostro campionato è già finito. E io questa sconfitta non la vivo né con rabbia, né con rancore, né con ira, perché diciamo che la classifica potrebbe portarmi anche a quello, ma con una grande tristezza dentro. Vi rendete conto che abbiamo fatto più sconfitte che vittorie in questo campionato? Vi rendete conto che a parte le ultime 3-4 della classifica e il Torino, noi siamo il peggior attacco del campionato. E ve ne dico un'altra, Lautaro Martinez ha fatto un gol in meno di tutta la Lazio. Devo andare oltre? Perché questa è solo la fotografia della Lazio di Sarri 3.0. Poi ci sono tante cose oltre a quelle. Oggi abbiamo fatto una delle nostre migliori partite e in una delle nostre migliori partite quante parate ha fatto Sommer che si possono definire interventi, diciamo, decisivi? Una, su quella percussione di Rovella che poi ha tirato anche male, è arrivato stanco, era un po' defilato. Cioè, ragazzi, siamo questi noi, siamo di una pochezza disarmante. Meno male che Sarri forse mi ha ascoltato, è riuscito a mettere due punti all'ottantesimo. Cazzo, Sarri. Poi, non fa giocare Luisa Alberto e, nel senso, per come gioca l'Inter ho capito la scelta di Kamada. Metti che Luisa Alberto non era magari in formissima, ma secondo me è stata una scelta più tecnica e tattica e non tanto di condizione, perché poi Luisa Alberto, se no, si mette sempre. Perché? Comunque con l'Inter bisognava avere un giocatore che muovesse la palla più di prima, che magari si inserisse di più senza palla e Kamada nelle intenzioni non ha giocato male. Però è troppo molle, è troppo leggero Kamada, come anche Rovella. Rovella non è che gioca male, ma è troppo leggero. Non puoi perdermi quel pallone che anche lì abbiamo rischiato nel primo tempo. Poi la cazza di Maruzic, non mi dite colpa di Gila che indica, ma svegliati. Gila indica e magari non vede Lautaro e sbaglia. Ma se i tegeri sei rivolto verso il portiere. Poi non capisco perché lì bisognava dare palla al portiere. Perché ormai, ragazzi, il gioco di Sarri ormai è studiato, sono cose studiate. L'hanno capito, ripeto, anche i fili d'erba del campo. Come giochiamo noi. È possibile che non capisci che bisogna modificare il modo di giocare. Perché non hai più immobili che ti fa 30 gol all'anno, neanche 20. Quest'anno Zaccani e Anderson sono in down. Oggi ci hanno provato, ma sono leggeri. Siamo poco incisivi, quindi bisogna cambiare il modo di giocare. Non hai più Milinkovic-Savic che ti fa 10 gol e 10 assist a campionato. Che comunque anche nelle difficoltà magari te la risolve con un colpo di testa, un inserimento, una punizione. Quindi devi cambiare modo di giocare. E poi basta con alcuni... Tipo Maru dici, signore, imbarazzante. Torniamo nel 2018. Sapete io che ho mosso la crociata verso il Montenegrino. Poi mi sono anche un po' ricreduto, ma basta. Cioè, ma oggi veramente ce l'ha condannata lui la partita. Perché devo dire che comunque nel primo tempo meglio noi. Poi subito gol abbiamo subito anche poi, scusate la ripetizione, anche il contro a colpo, abbiamo rischiato magari il raddoppio. Poi nella ripresa siamo scesi bene in campo. Però non segniamo, non creiamo nulla. Immobile anche oggi si è impegnato, non ha giocato male. Ma ragazzi, cioè, gli altri hanno l'autare Turam. Non abbiamo Immobile a Casteggiano. C'è una sottile differenza. Però, basta. Cioè, alcuni giocatori non sono più presentabili. E Maru dici è uno di questi. Capisci? Oggi ce l'ha condannata lui. Perché voglio dire, magari se non faceva quella cazzata lì va a sapere. Magari strappava un pareggio. Magari il primo tempo finiva 0-0. E poi va a sapere. Poi anche il secondo gol è evitabile. Poi bravo Varella. Però l'avevi recuperato al pallone. La palla è rimasta lì. Palla Turam. E loro non sbagliano. Cioè, l'Inter è una sentenza. Oggi un Inter da 5, ragazzi. Cioè, oggi l'Inter male, 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 male. Come? Come sa suolere la società. Perché? I nerrazzurri soffrono quando hanno una squadra tecnica che gli fa girare come delle trottole. Il problema è che noi poi non concludiamo. Poi facciamo le cazzate, regaliamo i gol. E peggio mi sento così. Però, il nostro campionato è finito. Ragazzi, parliamoci che lo dico già da un po'. Dalla settimana scorsa proprio ho mosso la mia sentenza. Poi ho visto giocare la Lazio-Madrid è stata scandalosa. Non so se avete visto l'Atletico Bilbao-Atletico Madrid. L'avete vista? Datevelo a rivedere come gioca l'Atletico Bilbao. Perché l'Atletico Bilbao è più forte la Lazio. Magari sì, ma non è il Real Madrid. Però, chissà come mai. Invece noi siamo andati là a Madrid a fare la gita. Sì, va bene. Non contava nulla. Ma tanto sono partite che ti aiutano a crescere. Ti aiutano a vincere. Cioè, ragazzi. Noi siamo così. L'Inter oggi ha fatto una partita da 5 e ha fatto due gol. Noi abbiamo fatto una partita da 6, da 6 e mezzo. Abbiamo fatto un tiro, forse. Forse. Poco da fare. Siamo una poca cosa. Io con che voglia, con che entusiasmo? Adesso vado a vedere le prossime partite. Abbiamo Lempoli, Frosinone, Udinese. Dovremmo vincere tre partite di fila. Teoricamente, ma anche obbligatoriamente. Per poter non provare il quarto posto, lasciamolo stare. Ma almeno all'Europa. Perché si arriva decime quest'anno. Addirittura siamo undicesimi. Ma io non ci credo che le vinciamo tutte e tre. Ma ve lo dico chiaramente. Perché adesso Lempoli e Udinese giocheranno col coltello tra i denti. Noi, anche con le piccole. Anzi, soprattutto con le piccole. Facciamo fatica perché ci hanno studiato. Gli altri non sono stupidi. Adesso andiamo a fronte a Randerazzoli e Cioffi. Che sono due signori allenatori. Che da subentranti nelle rispettive panchine stanno facendo bene. E noi vedrete che non lo so cosa faremo. Signori, la Lazio è questa qua. Però, cioè, il nostro allenatore tanto continuerà così. Anzi, ci dirà che noi ci lamentiamo, che vogliamo di più. E grazie al cazzo, Sarri. Cioè, siamo partiti da dire. Siamo quinti e sesti. Oddio, settimi e ottavi. Siamo undicesimi. Vedi un po' te. Non facciamo un gol a morire. Non lo so. La squadra è così scarsa. Sono tutti così scarsi. Kamada ha fatto 15 gol l'anno scorso. Quest'anno sembra il fratello scemo. Come mai? Come mai, Sarri? Non lo so. Faccio un plauso. Cito un giocatore, Mario Gila, che nonostante qualche errore, ma si deve un po' fare, ragazzo. Ma comunque mi piace per la positività che ha. Vabbè, poi l'esposizione di Lazari. Mi dispiace che Lazari era uno dei pochi un po' positivi del momento. Ma va tutto male. Va tutto male. Gendozi oggi, sì, fa qualcosa. Ma no, no, no. Ragazzi, siamo molto, molto apatici davanti, scialbi. Non lo so, ragazzi. Un alaccio che non riconosco più. Dico la verità. Non abbiamo mordente. Non abbiamo cattiveria. Non lo so. Non lo so. Boh. Niente. E ragazzi, questo è quanto. Like, commentate, seguitemi su Instagram. Bella.